Cloud Strife è un mercenario che non crede nella missione che gli è stata assegnata. In passato era un soldier, ovvero un membro delle forze speciali della potentissima compagnia Shinra che domina Midgar. Ora invece è stato arruolato da una banda di ecoterroristi, l'Avalanche, che crede che quella stessa compagnia stia prosciugando il pianeta della sua energia vitale, condannandolo quindi a una fine prematura. Ed è proprio lanciandoci nel mezzo della storia di questo biondo guerriero sfiduciato che inizia Final Fantasy VII Remake, primo capitolo di una trilogia che punta a riscrivere gli eventi di uno dei JRPG che hanno segnato la storia dei videogiochi. E con Final Fantasy VII Rebirth, disponibile dal 29 febbraio 2024, può essere utile ripercorrere i fatti principali prima di iniziare il secondo episodio, sia per rinfrescarci la memoria, sia per poter iniziare il gioco senza per forza giocare la prima parte. Mettetevi quindi comodi e seguiteci, a patto ovviamente che non vogliate recuperare il primo capitolo di Final Fantasy VII Remake. In tal caso vi consigliamo di tornare più avanti, per evitare così qualsiasi anticipazione. La storia di Final Fantasy VII Remake prende avvio da una missione terroristica non andata proprio come previsto. Per boicottare la compagnia Shinra, infatti, Barrett e gli altri membri dell'Avalanche raggiungono il reattore del Settore 1 scortati da Cloud. Qui piazzano una bomba, ma non sanno che il presidente Shinra spia ogni loro mossa e fa quindi esplodere lo stesso reattore di proposito. L'esplosione è devastante e rade al suolo una buona parte del Settore 1, mentre Cloud e gli altri si separano per radunarsi poi in un secondo momento nel quartier generale dell'Avalanche. Cloud comincia quindi ad avere delle allucinazioni molto realistiche di Sephiroth, un soldier di prima classe che era convinto di aver ucciso in passato. Ed è in questo frangente che Cloud si imbatte in Aerith Gainsborough, una fioraia che sembra essere sotto attacco da parte di entità invisibili che grazie al contatto con la fanciulla anche Cloud comincia a vedere. L'ex soldier l'aiuta quindi a scappare, ma poi è costretto a combattere i soldati della Shinra prima di prendere un treno per raggiungere gli altri. Il quartier generale dell'Avalanche è il 7th heaven del Settore 7, un bar che appartiene a Tifa Lockhart, l'amica d'infanzia di Cloud che lo ha effettivamente assoldato per la missione di Barrett. Per questo motivo Tifa consiglia a Cloud di svolgere qualche lavoretto come mercenario per i suborghi del Settore 7, dove il nostro protagonista prende una camera in affitto in cui è un'altra allucinazione di Sephiroth. In seguito Jesse, il membro dell'Avalanche incaricato dell'esplosione, che ancora convinta di aver causato il disastro del reattore, recluta Cloud per un'altra missione, ossia aiutarla a procurarsi un componente custodito in un deposito della Shinra. Cloud e Jesse riescono quindi nell'impresa con l'aiuto di Biggs e di Wedge, sconfiggendo anche Roche, un soldier di terza classe con l'ossessione per le moto. Una mattina le entità invisibili attaccano il Settore 7 e feriscono Jesse. Questa circostanza costringe quindi Barrett a reclutare Cloud per sostituirla nella successiva missione di sabotaggio. Così, raggiunto il reattore e piazzata la nuova bomba, Cloud e gli altri scoprono di essere stati incastrati. La Shinra, infatti, non solo li ha spiati anche questa volta, ma ha anche trasmesso su tutte le reti la loro impresa, così da convincere la popolazione che l'Avalanche è un vero e proprio nemico pubblico. Durante la fuga, Barrett e Tifa riescono a mettersi in salvo, tuttavia Cloud precipita nel Settore 5. Cloud si risveglia su un letto di fiori nella chiesa di Aerith, la fioraia che aveva incontrato in precedenza, e che gli chiede aiuto poiché i Torks, degli agenti segreti della Shinra, le stanno alle costole. Cloud accetta di aiutarla e dopo essersi scontrato prima con Reno e poi col suo socio Rude, passa del tempo insieme a Aerith, imparando a conoscere meglio sia lei che il quartiere in cui abita insieme a sua madre adottiva Elmira. Elmira è apertamente ostile a Cloud perché a suo dire avrebbe barattato una vita normale per diventare un Soldier potenziato geneticamente. Cloud decide perciò di sgattaiolare via col favore delle tenebre, tuttavia Aerith lo scopre e insiste per accompagnarlo al Settore 7. Così, sulla strada, i due si imbattono in un parco del Settore 6 dove Aerith racconta a Cloud del suo primo amore, un Soldier di prima classe. Ma quando la ragazza lo nomina, Cloud non riesce a sentire il suo nome e avverte quindi un forte mal di testa. Ed è proprio in quel momento che Cloud e Aerith intravedono Tifa mentre viene condotta alla villa di Don Corneo, un pericoloso malvivente del Settore che sta cercando moglie. Decidono quindi di camuffarsi e di intrufolarsi nella villa di Don Corneo per salvarla. Tuttavia, una volta nella villa i loro travestimenti non servono a niente. Il malfattore infatti li stordisce col gas e li intrappola nelle sue segrete, dove si ricongiungono quindi a Tifa. Una volta insieme a lei riescono a estorcere alcune importanti informazioni. Don Corneo rivela infatti che la Shinra intende distruggere il Settore 7 e sacrificare dunque centinaia di vite di civili innocenti solo per schiacciare la cellula terroristica di Barrett. Così, quando i tre riescono a fuggire e raggiungere finalmente il Settore 7, è però già troppo tardi. La Shinra infatti ha già diffuso la falsa notizia secondo cui l'Avalanche intenderebbe distruggere il pilastro che sorregge la piattaforma sopra il Settore 7. Barrett e gli altri in realtà stanno proteggendo il pilastro con tutte le loro forze. Wedge precipita al suolo e quindi, mentre Tifa e Aerith si occupano di lui, Cloud tenta di raggiungere la cima, ma si imbatte in Reno e Rude. I Tarks infatti sono stati incaricati di sganciare la piattaforma, e Reno in particolare non vede l'ora di prendersi una rivincita su Cloud. Intuendo che Cloud corre un gravissimo pericolo, Tifa corre in suo aiuto, ma prima di chiedere a Aerith di prendersi cura di Marlene, la figlia di Barrett che è rimasta nascosta nel suo bar. Wedge che nel frattempo si è ripreso accompagna Aerith fino al Seventh Heaven, salvo poi separarsi da lei per aiutare gli abitanti a evacuare la zona con l'aiuto di una guardia della Shinra che diserta gli ordini dei suoi superiori. Aerith riesce quindi a trovare Marlene, ma prima di poterla mettere in salvo viene intercettata da Tseng, il capo dei Turks, al quale si consegna il cambio della vita della bambina. Cloud intanto trova Biggs gravemente ferito, e Jessie che purtroppo muore fra le sue braccia. Così, insieme a Tifa raggiunge Barrett in cima al pilastro, dove Reno e Rude hanno già avviato la procedura di sgancio della piattaforma. Pur riuscendo a sconfiggerli entrambi in battaglia, i due non riescono a impedire la catastrofe. E come se questo già non bastasse, scoprono che Tseng ha rapito Aerith, poiché la ragazza apparterebbe alla mitologica specie degli antichi. Al pensiero che Marlene sia morta nella strage del Settore 7, Barrett impazzisce di dolore, ma Cloud suggerisce di recarsi alla casa di Aerith, dove trovano la bambina ilesa insieme Elmira. Quest'ultima rivela di aver preso in custodia Aerith dopo aver incontrato casualmente sua madre Ifalna, poco prima che la donna morisse a causa delle torture a cui la Shinra l'aveva sottoposta in un laboratorio segreto da cui era però riuscita a scappare. I Tarx si erano già presentati alla porta di Elmira in passato, ed è proprio così che aveva appreso le origini della ragazza e i suoi poteri di antica, che fanno ovviamente gula alla Shinra. Tornati alle rovine del Settore 7, Cloud e gli altri scoprono che Wedge è sopravvissuto e trovano un passaggio per un laboratorio sotterraneo in cui la Shinra usa l'energia Mako per trasformare i suoi prigionieri in mostri. Tuttavia le misteriose entità incappucciate che Cloud continua a vedere impediscono loro di indagare più a fondo. Così Cloud, Barrett e Tifa tornano da Elmira e decidono di salvare Aerith, poiché è poco probabile che lo scienziato pazzo che lavora per la Shinra, ovvero il Professor Ojo, voglia liberarla. Il trio torna dunque da Don Corneo per scoprire come raggiungere il quartier generale della Shinra, senza però passare dai posti di blocco, e qui si scopre che un suo ex sottoposto di nome Leslie vuole vendicare la sua fidanzata Merle scomparsa senza lasciare alcuna traccia dopo che Don Corneo aveva deciso di sposarla. Sfortunatamente il malfattore sfugge ancora una volta alla giustizia, ma Leslie consegna a Cloud e gli altri dei lanciarampini per scalare le mura del Settore 7 e raggiungere così il quartier generale della Shinra. Il trio raggiunge così effettivamente il quartier generale della Shinra e riesce a intrufolarsi e raggiungere gli ultimi piani solo dopo mille peripezie. I nostri qui origliano una conversazione tra il presidente Shinra e Reeve Twesty. Quest'ultimo vorrebbe ricostruire il Settore 7, ma il presidente è interessato solo a edificare una nuova Midgar nella fantomatica terra promessa a cui potrebbe condurli Aerith, dalla quale inoltre Ojo intende ricavare una nuova generazione di antichi da studiare. I nostri seguono quindi Ojo fino al suo laboratorio dove affrontano uno dei suoi esperimenti genetici e mettono quindi lo scienziato alle strette. Tuttavia i misteriosi fantasmi incappucciati intervengono ancora una volta, separandoli da Ojo proprio quando quest'ultimo sembrerebbe aver riconosciuto Cloud. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché ritrovano Aerith e si imbattono anche in Red, una creatura leonina capace di parlare. Cloud tuttavia ha un altro mancamento, e quando si risveglia nella camera di Aerith, la ragazza gli racconta la sua storia affermando poi di non poter condurre la Shinra alla terra promessa che anelano tanto. Il gruppo attraversa quindi il laboratorio e scopre Genova, una creatura che Ojo ha passato la vita intera a studiare. All'improvviso però davanti a loro compare Sephiroth, che distruggendo il ponte fa precipitare tutti nella zona top secret sottostante chiamata Dram. Nonostante le numerose trappole di Ojo, Cloud e gli altri riescono a tornare al serbatoio di Genova, tuttavia la creatura è scomparsa e trovano solo una scia che li conduce all'ufficio del presidente Shinra. All'interno però il presidente non c'è, o meglio, è fuori che penzola dal cornicione. Quindi Barret lo salva, ma lo costringe anche a confessare che è stata la Shinra a distruggere il settore 7 e che non c'è nessun collegamento tra l'Avalanche e Vutai, una lontana nazione in conflitto con Midgar. Sephiroth tuttavia compare dal nulla ancora una volta e trafigge prima il presidente Shinra uccidendolo e subito dopo anche Barret. Questo Sephiroth è però solo un altro uomo incappucciato che si trasforma in Genova Pulse, ossia una creatura mostruosa che causa delle allucinazioni di massa. Cloud, Tifa e Aerith riescono comunque a distruggerla, mentre uno dei fantasmi misteriosi guarisce Barret prima di unirsi ai suoi simili che hanno preso a fluttuare intorno al palazzo della Shinra. Nel mentre quello che sembrerebbe essere un altro Sephiroth ha preso il corpo di Genova e lo ha trascinato via con sé. Nei passaggi successivi, Cloud sfida Rufus il figlio del presidente sul tetto del palazzo mentre gli altri fuggono. Tutti tranne Tifa che all'ultimo momento salva Cloud. Rufus invece sconfitto è costretto quindi a ritirarsi. Dopo essersi riuniti al piano terra, i nostri eroi lasciano il palazzo prendendo un furgoncino, mentre Cloud li segue in moto in una rocambolesca fuga verso la libertà. All'improvviso però Sephiroth sbarra ancora una volta loro la strada. Il misterioso Soldier scompare tuttavia in un passaggio aperto con la sua lunga spada e Red spiega al gruppo che i fantasmi che per tutto questo tempo li hanno aiutati oppure ostacolati altri non sono che i custodi del fato, i Numen, delle entità inviate dal pianeta stesso per preservare un futuro prestabilito. Aerith inizialmente sembra restia a sfidare il destino, ma poi avverte gli altri che Sephiroth è molto più pericoloso di quanto appaia e deve quindi essere fermato a qualunque costo. Inseguendolo, Cloud e gli altri si ritrovano all'interno di una dimensione sovranaturale dove affrontano in combattimento sia i Numen sia Sephiroth, e nel corso della battaglia ciascuno di loro ha delle allucinazioni che potrebbero essere delle illusioni proiettate da Sephiroth oppure delle visioni del futuro. Alla fine tuttavia il gruppo riesce ad avere la meglio, ma Sephiroth prende Cloud con sé e lo conduce in un luogo ai confini del mondo dove suggerisce che la fine è vicina e lo invita quindi ad unirsi a lui per impedire il tutto. Cloud rifiuta, e Sephiroth prima di scomparire lo avverte che mancano ancora sette secondi alla fine. Nel frattempo Biggs è sopravvissuto e si sta riprendendo, mentre Marlin è ancora al sicuro insieme a Elmira. Rufus Shinra ha preso invece il controllo della compagnia di suo padre, e Hojo, venuto a sapere che il corpo di Genova è scomparso dal suo laboratorio, scoppia a ridere come un isterico. Nel frattempo, nel passato, ora che il destino è cambiato, Zack Fair sopravvive all'agguato della Shinra nel finale di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, e si avvia quindi verso Midgar portando con sé un Cloud catatonico. Nel finale del DLC Episode Intermission, invece, la ninja di Wutai, Yuffie Kisaragi, lascia Midgar in groppa un ciocobo decisa a trovare dei compagni per continuare la sua guerra contro la Shinra e salvare quindi Wutai. Frattanto, Cloud e gli altri, avendo lasciato Midgar, chiedono un passaggio a Chocobill, un allevatore del posto, mentre nel passato Zack Fair arriva alla chiesa dei bassi fondi del Settore V, dove al posto di Aerith trova dei sopravvissuti al crollo della piattaforma. Bene, e questo per ora è tutto. Voi cosa ne pensate della nuova storia di Final Fantasy? Diteci la vostra nei commenti, e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Qui accanto nel frattempo, come di consueto, trovate alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!